È necessario sottolineare questo punto di verità, siccome ogni trimestre arriva un bilancio parziale sul quale si creano speculazioni e allarmi e si passa tutto l'anno a raccontare il fatto, smentito poi dalla chiusura dei conti, che noi staremmo fuori controllo con centinaia di milioni di debiti, con un rischio commissariamento, strage di diritti sulla salute perché si spende troppo e non ci si cura più in Abruzzo, quando arriva il bilancio certificato con i bolli della Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero dell'Economia e Finanza e del Ministero della Salute che dicono che l'Abruzzo è una regione virtuosa che pareggia il bilancio e non lo fanno in molte tra le regioni italiane, ci sono regioni che hanno accumulato anche centinaia di milioni di debito ed è anche normale perché stiamo in piena pandemia, che noi in piena pandemia, dopo due anni di pandemia e con le ristrettezze di un piano di rientro che ha creato dei problemi strutturali alla sanità abruzzese, riusciamo a chiudere il bilancio in pareggio, questa è la notizia che deve essere data e che deve, quantomeno i toni che ho utilizzato, quanto meno pareggiare il conto di un anno di bugie e di falsi allarmi. Sono tre anni consecutivi che chiudiamo i conti in equilibrio, abbiamo attraversato momenti critici dovuti alla pandemia, abbiamo coperto tutti i costi Covid sia con fondi europei sia con altri fondi nostri regionali, ma soprattutto è da sottolineare che oggi potremmo, se non avessimo avuto questi costi Covid, avremmo potuto chiudere con un avanzo di bilancio di 54 milioni.